E' un artista, attento osservatore che si esprime in uno scatto, fermando il tempo lui descrive ogni momento, si luppa pose che raccontano la sua curiosità. Ho visto tutto, da lunedì alla domenica per strada, nascosto dietro la normalità di ogni giornata, che sfocia in cronaca, in politica o solo in varietà. Come un fantasma le compare in ogni cosa che non va, spesso si trova nella mischia tra chi si abbuffa a sazietà, un ficcanaso, non soltanto per il mestiere che lui fa. Conosce tutti, li raffigura in bianco e in nero anche a colori, si mimetizza tra la gente, vende emozioni, il fermo immagine che fonde il fotogramma alla realtà, offre servizio a chi si presta a farsi immortalare, per rimanere indelebile nel tempo, manifestando la fierezza e la tristezza ad ogni età. Come un fantasma le compare in ogni cosa che non va, spesso si trova nella mischia tra chi si abbuffa a sazietà, un ficcanaso, non soltanto per il mestiere che lui fa. Come un fantasma le compare in ogni cosa che non va, spesso si trova nella mischia tra chi si abbuffa a sazietà, un ficcanaso, non soltanto per il mestiere che lui fa. La 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 la... La la la, la la la, la la la, la 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 la